Si è spento, nella gara di ritorno dei quarti di finale, il sogno del Vesna di approdare alla Final Four della Coppa Italia Nazionale di Calcio Dilettanti di Eccellenza. Oggi pomeriggio, davanti a oltre 600 persone, i carsolini del mister Luigi Sandrin hanno perso per 1-3 con il Sangremo, dopo che nella partita di andata erano riusciti a strappare un pareggio per 2-2 nella gara disputata in Terra Ligure una settimana fa. Allora, i gol di Zollia e Venturini, che avevano portato avanti il Vesna per 2-0, avevano forse sorpreso il Sangremo, che nella gara di ritorno non si è lasciato sorprendere né dal forte vento di Bora, che spirava su Santa Croce, né dagli attacchi di un Vesna che le ha provate tutte, ma che già al 52esimo ha dovuto incassare il gol su rigore di Cardini, che ha lanciato gli ospiti al raddoppio, solo sette minuti più tardi, con Fiuzzi. Nell'ultimo quarto d'ora, con un Gigi Sandrin squalificato e costretto a guardare la partita dalla terrazza di una casa adiacente allo stadio, si è anche riaccesa la speranza in casa Vesna, quando una punizione di Botricic è stata deviata da un difensore Ligure per fissare l'1-2 con cui il Vesna ha sperato nel recupero, nei minuti finali però Rovella, autore dei due gol sangremesi all'andata, ha definitivamente fissato il punteggio sul 3-1 che lancia il Sangremo alla fase finale e chiude l'avventura di Coppa del Vesna, che saluta il campo comunque con l'onore delle armi.